ma non è che per questo viene una gomma piena così per spendere l'acqua fino a così per caso che sta a casa giulio cos'è fede la ammolpita di gasparosso da te che serveva perché c'è una curva c'è una curva fa che non si dice che ci riesci a mangiare